Amici sportivi buonasera e benvenuti ad A Tutto Campo. Partita in colore del Pescara a Chiavari con Lentella, 0 a 0 il risultato, senza emozioni e con tanta noia. Questo è il resoconto della partita scorsa del Pescara, parleremo in questa puntata naturalmente delle prossime due gare Casalinghe, sabato con la Cremonese e poi il martedì successivo con il Carpi, parleremo anche della questione, chiamiamola così, Castel di Sangro. Ma intanto gli ospiti della serata, un saluto e un bentornato naturalmente a Valtanerone e Luigi Mascia, buonasera. Buonasera. Lentranno trovati. Gli altri ospiti della serata, li presento subito, Flavia Tortorella. Buonasera. Buonasera, poi c'è Vincenzo Minguzzi, bentornato anche a te. Grazie. E ad Alessandro Alberti, buonasera Alessandro. Buonasera, grazie per l'invito. A questo punto, sigla. Sono seduto sopra una panchina, qui fermo ad aspettare, e c'è un pallone sta viaggiando sul prato e quando arriva mi farà sudare. Ma dimmi quando arriverai, sono così teso, questa palla non arriva mai, chissà che faccia che farai. Così felice e spalordito, non t'ho vista mai, a tutto campo arriverà, è un talk show del tuo pescara, qui si parlerà. Chissà che faccia che farai, quando la vedi alla televisione, rimarrai senza parole, clicca se seguici. Io penso che avevamo il centrocampo più forte di tutta la Serie B, sulla carta. Perché avere gente come Brugman, Memuschai, Benali, Valsania che era arrivato, i ragazzi giovani che abbiamo, penso che sia in assoluto il centrocampo più forte della Serie B. Poi dopo il campo ha detto che magari quel giocatore per il mister non andava bene, quell'altro era visto come esterno invece di come mezzara e questi giocatori sono andati via. Ma non è che possiamo dire che quelli che ci sono oggi sono più scarsi o non sono Zemaniani o lo sono di più o di meno di Memuschai. Io non devo provocare nessuno, vi posso assicurare, se non avessi stima nel mister l'avrei già cacciato, quindi non c'è assolutamente problema e dubbio su questo. Siccome ho grande stima nel mister, ma ho grande stima anche nei giocatori che abbiamo. Voi ritenete il nostro direttore Pavone uno Zemaniano di ferro? Se il nostro direttore all'inizio del campionato o anche addirittura nei sei mesi precedenti quando il mister è arrivato, ha ritenuto, perché poi di fatto questa è stata la valutazione, ha ritenuto che questi giocatori avessero le caratteristiche di giocare con il mister o Pavone è ringoglionito oppure vuol dire che c'è qualche cosa che non va. Quindi non si tratti di avere giocatori che sono Zemaniani o non sono Zemaniani. Ho sentito sabato dopo la partita che questa squadra mancava di qualità davanti. Io penso che Capone sia il 99 in assoluto più forte che c'è nel nostro paese. Un giocatore, ma non è mica facile la formazione, la formazione purtroppo non la faccio. Non credo che sia inferiore all'almeno 3 o 4 che ci precedono, almeno anche 4 o 5 che ci precedono in classifica. Ci state già pensando a confermare Zeman? Zeman non ha mai chiesto la luna? Dipende anche un po' dalle direttive della società. Noi in questo dovevamo migliorare, stiamo cercando di farlo perché poi è sempre la società che deve dare la linea. Quindi diciamo che è ancora presto? Ma sicuramente sì, perché siamo all'inizio del giorno di ritorno, dobbiamo fare tutto il giorno di ritorno. Probabilmente magari arriveremo in fondo, il Pescara avrà vinto il campionato e Zeman vorrà andare alla Juventus. Magari arriveremo in fondo, non siamo andati nei play-off e Zeman va a casa. Ma queste sono cose che succedono nel calcio. Comunque una cosa strana è essere intervistati da un allenatore. Il presidente che viene intervistato da un allenatore è veramente una cosa strana. E' un allenatore che intervista il presidente allenatore. Assolutamente sì. E' bella, no? Dal prossimo anno saremo anche colleghi. Bene, dopo questo sorriso, dopo queste provocazioni di Massimo Profeta, bravissimo a provocare il presidente, c'è da dire, torniamo sul serio, che questa è una intervista che fa capire molte cose, di come stanno andando le cose nella Pescara Calcio e di quella che è la gestione della squadra. Allora, una critica continua e velata, Walter, nei confronti di Zeman, con dei riferimenti ben precisi, se no sarebbe andato via, se non raggiunge l'obiettivo l'avrei già lo caccierei, insomma, di questo genere. Una critica particolare anche nei confronti del direttore Pavone. Addirittura si parla, insomma, in modo, con qualche parola, anche un pochino sulle righe di lui. E alla fine, alla domanda, se verrà confermato Zeman, naturalmente il presidente Sebastiani dice che bisognerà vedere quali saranno le direttive della società, società che poi è formata sostanzialmente da lui stesso. Da Sebastiani e da Sebastiani. Oddio, adesso, dal mio punto di vista non vorrei sembrare più presuntuoso di quello che normalmente sono. Non c'è niente di nuovo in questa intervista, se non il tono un pochettino. Che Sebastiani fosse convinto che la squadra dell'anno scorso, con un paio di ritocchi, poteva fare una ottima Serie B, era risaputo. Che Zeman non considerasse, diciamo, 8, forse 10, 11 di quella squadra, idonei ai suoi progetti, mi pareva abbastanza chiaro. Quindi, cosa è successo? Che in estate hanno fatto ognuno la parte sua. Sebastiani ha cercato di tenere fino all'ultimo quelli che lui considerava i migliori e finanziariamente, economicamente sostenibili. Zeman ha chiesto una batteria di ragazzi. Dopodiché, insomma, il campionato è andato come è andato. Quando le cose non andavano bene sono scoppiate le scintille. Dopo il mercato di gennaio, al termine del quale Zeman ha detto adesso siamo più squadra, guardando le partite col Perugio, quello di Frosinone, e ci metto anche l'ultima... Con l'entella. Eh, sì, mi stavo confondendo adesso con l'entella. Non mi pare di vedere questa squadra in più, questa più squadra, questa squadra migliore. Vedo una squadra che non trova più la porta. Dietro sembra più solida, ma solo perché l'unica squadra che non ha fatto gol è l'entella. Quelle che hanno qualche attaccante di serie B... Ma stanno giocando la stessa squadra di prima, mi sembra che l'unica novità mi sembra di essere stato Yam Gato. Sì, sì, vabbè, ma ho capito, ma se ti fai comprare cinque persone e poi ne fai giocare uno solo, mica è colpa mia. Ma Macinin, là, che sembrava, ho detto, il nuovo Baggio, questa cosa, l'abbiamo inseguita in tutta Europa, pure quando andava a trovare i parenti. È arrivato, sta facendo allenamento da un mese, si sta allenando qua, un mese e mezzo ormai, si sta allenando qua, però non gioca. Serviva? Io penso che Zeeman se l'ha chiesto, aveva un'idea di come impiegarla. Adesso sono curioso di capire dove ho intendo impiegarla. Qualcuno dice, quella è l'alternativa a Brugman, appena Brugman gioca male, se tu fai mercato sperando che il tuo giocatore migliore giochi male per sostituirlo, mi, diciamo, mi lascia qualche perplessità. E così là davanti, adesso sembra che sia guarito Falco. Se Falco dopo domani gioca, vedremo se c'è qualcosa di nuovo là davanti. Pettinari sono 7-8 partite che non segna. Altri giocatori dopo una partita così così sono finiti in banchina, a lui no. E secondo me questa cosa lo sta un po' logorando, perché lui settimanalmente si sente un po' sulla graticola, un po' in discussione, anche se forse nessuno glielo dice chiaramente. Viceversa, quelli che stanno in banchina pensano, dice questo qua qualunque cosa fa va bene. E io lo sfogo del Presidente lo vedo in questa chiave, lo vedo. Lo vedo in un percorso che non si riesce ancora a capire dove porta, forse neanche dove si vuole andare. Io sono convintissimo, e lo dico, questa squadra per fare i playoff gli basta poco poco, basta che gioca decorosamente, basta che fa un paio di golli in più. Credo che sia andata proprio così, io l'ho trovato molto diretto e molto sincero in questa intervista, quindi fino adesso le cose non gli sono piaciute, però siccome non tutto quanto è perduto, sta cercando di stimolare tutti per vedere, di riuscire a fare più punti in questo girone di ritorno, perché per arrivare ai playoff ci vuole poco secondo me, perché c'è veramente poco. Gravillon è da Marte, vede che sta giocando dopo due anni di assenza, vede che giochiamo con Campagnaro, leader della difesa, dice oh c'è Campagnaro, di che stiamo a parlare. Ma se poi gli spieghi che Campagnaro c'era già, e Gravillon è un altro di quelli che abbiamo inseguito per quattro mesi, che sembrava la panacea di tutti i mali della difesa, ha giocato venti minuti, e non lo stiamo a vedere più, allora uno si chiede perché, perché, e non per discutere Campagnaro, non per discutere Campagnaro, ma c'era bisogno di acquistare i nuovi, i fiamozzi, perché è stato preso? Cioè dopo il mercato ci ritroviamo con Balzano e Campagnaro, i due più vecchi dell'organico, e abbiamo inseguito i ragazzini all'orata all'asilo, al mino, siamo andati a prenderli ai NAG, alle scuole calcio, agli under 14, li abbiamo inseguiti, dopo che ricomincia il campionato, 37, 32. Se vuoi rinforzare una squadra nel mercato generale devi prendere i titolari, perché se prendi delle riserve... Bravo, ma noi siamo di un'altra epoca. Fai il numero, no, io dico parla in generale, dopo io non conosco le condizioni di quelli che stanno fuori, può essere pure che stiano bene, magari fra un pochino giocheranno. No, ma io adesso io aspetto Falco e voglio capire lì in mezzo cosa cambia. Falco è un ottimo giocatore, però secondo me gioca a destra, quindi va fuori IAMGA, perché il ruolo è quello, in maniera completamente diversa, però la posizione è la stessa. Alessandro, vorrei intervenire. Vorrei dire in maniera molto concreta, considerando anche il quadro odierno che sta vivendo il mondo del calcio, che lo snodo, retrocessione, ripartenza in serie B non è molto semplice da riuscire a gestire. Quindi c'è anche questa componente che comunque crea dei problemi, oltre evidentemente a due modi di intendere il calcio, sono evidentemente diversi. Credo che la difficoltà sostanziale sia proprio quella di riuscire a far coincidere le esigenze dell'allenatore con quella del Presidente, della società e anche dei tifosi. Ma dopo una stagione come quella dell'anno scorso ti posso assicurare che è molto, ma molto difficile. È vero che lui fa osservare che Ben Ali gioca in serie A, che Moussai gioca in serie A e quant'altro erano giocatori che erano in forza a pescare. Evidentemente nel momento in cui si doveva ripartire si doveva fare un taglio radicale, però poi quando tu c'è dei contratti importanti, c'è dei giocatori che ritieni anche che possano servire alla causa, è anche difficile poi svenderli. E per un discorso di bilancio e anche per un discorso di piazza. E poi nel momento in cui tu retrocedi e regali, io vorrei vedere se il quadro di anno si fosse verificato a settembre. Cioè dopo il calciomercato andavano via Ben Ali che aveva fatto qualcosina l'anno scorso. I titolari, nonostante la stagione sia stata disastrosa, che commenti avremmo fatto. Adesso c'è una situazione dove il Presidente ovviamente è stato molto sincero, c'è questa aria frizzante che secondo me mantiene anche alta l'elettricità. Però ci sono anche delle difficoltà oggettive da tenere in considerazione. Ecco io, Luigi, vorrei anche parlare di qualcos'altro, anche del futuro. Perché se il Pescara dovesse raggiungere il playoff tutto bene, perché tutto sommato sembrerebbe questo l'obiettivo, almeno a detta di Sebastiani. Se non li raggiunge il Pescara avrà fatto un campionato di transizione. In ogni caso si è capito che nel prossimo campionato, comunque dovessero andare le cose, non ci sarà Zeman e non ci sarà neanche Pavone. Innanzitutto basta con questa storia che Sebastiani non sia simpatico a Pescara. Perché secondo me nelle ultime settimane il Presidente Sebastiani, l'Oscar della simpatia in città, se l'ho aggiudicato, perché le interviste, forse sarà Massimo Profeta particolarmente stimolante sotto questo aspetto, riesce a metterlo a suo agio, ma sono davvero simpatiche. Insomma, sentir dire, e mi ricollego alla tua domanda, che sarà la società, le direttive della società a stabilire qual è il futuro di Zeman e di Pavone, insomma, è tanta roba dal punto di vista. È vero che in Italia poi un comico ha avuto successo, è riuscito a fare un partito politico, magari noi riusciamo anche ad andare in Serie A, a rimanerci prima o poi. Con tutto l'affetto, veramente straordinario. Poi ci siamo persi una battuta, forse in Italia hanno fatto un decreto legge, l'hanno convertito in legge, per cui Zeman e Sebastiani devono stare insieme, mi sono perso qualcosa. Ma ragazzi, questa squadra qui era la stessa squadra che l'anno scorso, quando è arrivato, ed è arrivato a parere di tutti, a togliere le castagne dal fuoco di un campionato disastroso come quello dello scorso anno, ed è arrivato Zeman, questa è la stessa squadra, o quelli che venivano citati, erano quelli che con Zeman hanno vinto una sola partita col Genoa, che giocava contro il proprio allenatore in quella occasione. E si poteva pensare che Zeman, con quella squadra da cui non aveva tirato fuori niente, perché poi il proseguo di quel campionato fu altrettanto disastroso come era stato all'inizio, potessero essere quelli giocatori da cui ripartire con il centrocampo e che Zeman stimasse quei giocatori. Io non l'ho mai pensato, però è anche vero che tutti confidavano, io credo il Presidente in primis, nel fatto che con Zeman si potesse ripartire da una squadra di giovani e probabilmente quei giocatori non appartenevano a questo tipo di progetto. Oggi questa tensione continua, loro dicono che può far bene al Pescara, io dico che è diventata una cosa di settimana in settimana davvero insostenibile, anche agli occhi di chi vede tutta questa situazione. La sensazione è che sono due separati in casa, da una parte c'è uno che non si vuole dimettere perché non conosce la parola di missioni e dall'altra c'è un Presidente che non lo vuole allontanare, non lo vuole mandare via per ragioni diverse, per non prendere un nuovo allenatore perché ormai tanto comunque la salvezza è a portata di mano. E allora se parliamo di play-off dobbiamo essere anche sinceri e onesti, questa squadra è una squadra fino adesso mediocre. Io scorrevo la classifica sabato sera, dopo le partite che si sono disputate in questo fine settimana e forse ad eccezione del Carpi, guardando un po' le squadre che sono davanti al Pescara, sinceramente tutte in un campionato comunque che non è straordinario, in un campionato in cui adesso sta uscendo l'Empoli come mattatore di questo campionato, ma è stato un campionato di grande equilibrio, però tutte le squadre che sono davanti al Pescara meritano di essere davanti al Pescara perché comunque fino adesso hanno dimostrato qualcosa in più del Pescara. Oggi, come oggi, se il Pescara è quello dell'Entella, ma il Pescara è anche quello che abbiamo visto nelle ultime settimane, il Pescara si metta l'anima in pace, il Presidente Sebastiani se la metta anche Zeman, e purtroppo ce lo dobbiamo mettere anche noi l'anima in pace, oggi quel Pescara non è una squadra da play-off. Manca qualcosa, ma manca più di un qualcosa, una squadra che rumina calcio, una squadra deludente, una squadra che ha difficoltà ad arrivare nell'area di rigore avversaria, ha una difesa facilmente perforabile e una difficoltà cronica a segnare. Oggi, purtroppo, è così. Secondo me queste diatribe, la battuta, eccetera, non aiutano. Cioè, è evidente che questi dovranno andare avanti fino a maggio, fino alla fine di questo campionato, e dopodiché alla fine ognuno andrà per la propria strada e si è capito che sia Zeman che il direttore sportivo Pavone dovranno trovarsi un futuro altrove. Probabilmente si partirà, si ripartirà da Luca Leone, perché nelle settimane scorse Sebastiani ha espresso giudizi lusinghieri sull'altro direttore. Ma è evidente che siamo già ad una pagina voltata. Addirittura in città qualcuno dice che Stellone abbia già preso casa a Pescara. Io ho sentito questa in qualche bar, non so se è la verità, non so se sono rumors, però intanto si registra anche questa cosa. Poi Vox Populi, Vox Dei. Allora, fra poco coinvolgeremo anche Flavia Tortorella su un altro argomento che andremo a introdurre fra pochissimo, quello della questione del Castel di Sangro. Adesso pubblicità, poi torneremo di nuovo in diretta per parlare di questo caso uscito proprio nelle ultime ore. 21 e 54 minuti, di nuovo in diretta a tutto campo. Dunque, il caso della settimana nella trasmissione televisiva non è l'arena di Massimo Giletti sulla 7, si è parlato di una presunta combine nel campionato 1996-97 di Serie B tra Bari e Castel di Sangro. Questa partita sarebbe stata combinata, vi ricordo che è terminata con il risultato di 3-1 per il Bari, con 3 gol sigrati dalla formazione bianco-rossa nel giro di 42 minuti. I giocatori del Castel di Sangro avrebbero incassato, così secondo quello che si è detto, a testa circa 20 milioni di vecchie lire. Chi ha detto queste cose? Innanzitutto un giocatore individuato che ha parlato tranquillamente, che è Albieri, uno dei giocatori di quegli anni d'oro del Castel di Sangro e poi un altro giocatore che non si è riuscito ad individuare perché comunque è stato filmato senza che lui ne fosse a conoscenza. Dunque queste sono le notizie che sono uscite e che in un certo senso coinvolgono anche l'allora presidente del Castel di Sangro, Gabriele Gravina, che ora è presidente della Lega Pro. Non so se a questo punto io direi di vedere questa copertina e poi il collegamento con Gabriele Gravina. Puoi giocare, puoi sognare, vince tutto e arrivare sopra il tetto della storia number one. Ma se perdi la partita più importante della vita che sarà Giocati, giocare sì però Con le alta si può Bene, allora abbiamo in collegamento il Presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina. Buonasera Gabriele. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Senti, allora, naturalmente tu hai lasciato già delle dichiarazioni, hai detto che avresti querelato, adesso sentiremo chi, ma dici subito, fu una gara truccata? Non so se preferite una risata o qualcosa di diverso, perché a me la cosa che stupisce di questa vicenda è che si cerca di parlare di un argomento avvenuto e nessuno ha avvolto l'esatto posizionamento nel tempo dell'evento. Stiamo parlando di un evento che si è verificato 21 anni fa. Ripeto, 21 anni fa, perché altrimenti si corre il rischio di posizionarsi in maniera diversa, qualcuno innanzitutto dovrebbe chiedersi perché dopo 21 anni. E questo lascio a voi qualunque tipo di interpretazione. Poi dovreste chiedervi perché in questo momento, e anche qui lascio a voi un'altra libera interpretazione, la partita. Voi sapete, perché siete stati tutti testimoni di quella stupenda cavalcata di quegli anni, conoscete le persone, perché anche di questo stiamo parlando, stiamo parlando di persone, non stiamo parlando di oggetti. Posizionate correttamente i vari personaggi, mettete ognuno al proprio posto e capirete tutto quello che si sta cercando di mettere in atto. Dico si sta cercando perché credo che tutto trova una sua giustificazione nei comportamenti, tutto trova giustificazione nella pochezza delle argomentazioni e soprattutto nelle contraddizioni dei vari protagonisti. Io ho letto un'intervista di Luca Albieri che è stata pubblicata credo ieri mattina e Luca Albieri ha detto che non ho mai detto che era una gara truccata, ho solo annusato. Infatti io non a caso ho chiesto se posso recuperare il suo recapito telefonico, perché se mi potesse dare la sua disponibilità, visto che c'è un nuovo ruolo, l'annusatore di posizionamenti illeciti, io lo utilizzerei in Lega Pro per capire dove avvengono gli illeciti, perché un conto è avere elementi oggettivi, l'altro è annusare, questa forma di annusare e dire poi con dati assolutamente precisi, circostanziati, tutta una serie di eventi dopo 21 anni, la cosa mi puzza. Però stranamente l'unico argomento sul quale di solito i calciatori sono particolarmente sensibili, che sono sui soldi, riguarda i soldi, al domanda si aveva percepito il premio e ha dichiarato di no. Ebbene esiste una busta paga in cui lui ha percepito un premio salvezza di 30 milioni di vecchie lire. Non è vero che hanno preso 20, il premio salvezza di quell'anno regolarmente depositato in Lega di A, allora perché era Lega di A e di B, è stato di oltre 800 milioni di vecchie lire. E come sapete ci sono delle norme precise, il premio collettivo deve essere depositato per metterlo in borsa entro la data del 30 settembre, quindi all'inizio del campionato. Stiamo parlando di un premio depositato, certificato nove mesi prima. Spero che questi elementi facciano capire di che cosa stiamo parlando. Ecco Gabriele, al di là degli episodi che si sono verificati, questa sembra un'imboscata proprio a gravina, cioè proprio alla tua persona. No, no, io non l'avverto come un'imboscata. Non la ritieni come un'imboscata o pensi che casualmente sia uscita fuori? No, no, io non credo nulla al caso, io sono una persona molto pragmatica, ma non credo neanche all'imboscata, perché per fare un'imboscata chiaramente devi avviarti in un percorso assolutamente impervio. Io sono su una strada lineare, chiara e costellata di grande dignità. Quello che percepisco è sicuramente infangare e fin qui ci posso stare, perché fino a quando si vuole giocare con la mia immagine, anche se qualcuno non ha mai avuto il coraggio di fare il mio nome per non incorrere in qualche procedimento penale, lasciando intendere che io non ero il presidente, ed è vero, ma sono io il castellitano. La cosa strana è soltanto il cercare comunque di colpire me, sottolineo, ci posso stare, non è un problema, fa parte del gioco. Quando vai ad alterare alcuni equilibri, alcune logiche, devi essere pronto a subire anche alcuni piccoli graffietti. Il problema è un altro, fino a quando si parla di gravina va bene, ma quando si tocca un modello, una cultura, una dignità di due territori, perché qui si parla di Bari e si parla di Castel di Sandro, e quando si tocca il mio territorio, quando si tocca la dignità di persone che con grandi sacrifici hanno portato avanti un percorso, un progetto e hanno considerato quell'evento, quell'obiettivo, una sorta di rivalsa sociale, una rivalsa anche culturale, un rilancio del proprio territorio, vi sembra normale? Anche questa è una domanda che pongo a voi. Ecco Gabriele, qualche dubbio, anzi più di qualche dubbio, lo aveva posto lo scrittore McGuinness subito dopo la partita. Sì, infatti quel dubbio lui ha avuto due condanne. Quindi se i dubbi ricevono delle condanne, evidentemente non sono dubbi, ma sono semplicemente delle disfammazioni. Punto. E oltre ad Albieri, secondo te chi è l'altro giocatore che ha parlato? Ma io, guardi, io sono molto curioso, perché... Perché la squadra si è stretta nella difesa di quella situazione. Sì, infatti, su questo io sono molto curioso, sto aspettando di vedere come finisce questa vicenda, questo colpo di teatro. Perché se i calciatori insieme hanno rappresentato, e li capisco, perché poi alla fine loro sono stati davvero grandi protagonisti di quella splendida cavalcata. No, finora mi vengono dei sospetti diversi, però aspettiamo ancora qualche ora, perché ho la sensazione che poi ci faremo qualche risato tutti insieme. Allora, una domanda voleva fatte la Vincenzo Minguzzi. Ritorniamo un attimo indietro di... Ciao Gabriele. Ciao Vincenzo. Ritorniamo indietro di 21 anni, no? Il Bari gioca in casa con 50.000 spettatori e c'è il match ball per vincere i campionati. Il Castel di Sangro si è salvato la domenica prima. C'è un po' tante feste. Se il Bari ha stanziato dei soldi per comprare quella partita lì, vuol dire proprio che li voleva buttare via. Insomma, quella era una partita che... Cioè, francamente... Guarda, Vincenzo, sai qual è la cosa strana di tutta questa vicenda per come viene rappresentata? Per questo dico, è tantamente banale, ricca di contraddizioni che mi viene il volto al stomaco. Il problema è che al di là di averli buttati, perché il Bari veniva da otto vittorie consecutive, tre pareggi in undici viare, una cavalcata straordinaria, 55.000 spettatori, poi tra l'altro, tre gesti atletici incredibili. Poi ho sentito parlare di un risultato già definito, però a domanda qual era il risultato, 2-0, no, 2-1, un altro 3-1. Quindi, boh, diciamo, poi non capisco perché 3-1 bastava 1, no? No, 3-1, poi un altro 2-1, no, era 2-0. Vabbè, ma a prescindere da questo, chi conosce la storia, ecco perché ho detto molte volte dopo 21 anni, la gente pensa che la storia sia stata aggerata. Sapeva benissimi i rapporti di rispetto, di stima tra Gabriele Gravini e la famiglia Matarrese, perché anche questo non bisogna trascurare. Ma come fanno due persone che si stimano a mettere a negoziare su un piano economico un evento e, quarta caso, il presidente o il proprietario, meglio, di quella società che è il Castel di Sangro, va nello spogliatoio e comunica a tutti i ragazzi 20 milioni di Euro a tutti perché... Ma l'avete mai visto una cosa del genere voi nel mondo del calcio, nel mondo del... Io credo che dovrei, consentitemi, io dovrei querelare queste persone, non per quello che dicono, perché mi stanno dando dell'imbecille. E questo è il problema, solo per questo. Stavo dicendo un'altra parola, ma non voglio... Visto che siamo in un orario un po' di fascia protetta. Quindi, consentitemi. Davvero, io dovrei querelarli, solo per il fatto che mi stanno dicendo che sono stato un coglione. Si può dire? No, l'hai detto, l'hai detto. Vincenzo, io sarei più preoccupato per la situazione dell'Arezzo e magari del Matera, forse, che ti coinvolge di più come Presidente della Lega Pro. Vincenzo, io ti posso... Sì, hai ragione, mi preoccupa di più, ma alla luce di questi eventi, alla luce di quello che è avvenuto il 29 gennaio, di quello che è avvenuto qualche mese prima, io sono preoccupato delle condizioni generali del nostro paese. Cioè, questo è un paese... Se questo è il paese, è un paese finito. Cioè, è un paese dove davvero non hai più riferimenti, non hai più certezze. Puoi lavorare, creare... Guarda, Vincenzo, noi ci conosciamo da tantissimi anni. Abbiamo vissuto e abbiamo ancora vivo, vivo sulla nostra pelle i segni tangibili, non solo degli anni, che sono uguali per tutti, ma i segni evidenti di tanti sacrifici che sono stati posti in esce per creare una pagina bella della nostra vita, del mondo del calcio, del territorio. E questo non lo puoi a zerare. Si parla tanto dell'esigenza di pagine belle e tu vai a ripangare qualcosa di bello. Quando ci sono degli scandali in Italia che, credo, meritano un'attenzione diversa. Allora, questo giornalismo di inchiesta, ma carità, ma poi venga, ma su cose reali, su cose vere, ma non su cose che riguardano situazioni di 21 anni fa, sono infondate, e poi qualcuno ci spiegherà perché, fatto fatto tutto questo, qualcuno ce lo dirà prima o poi, credo, e ci saranno delle condizioni, degli ambienti. vuoi il tribunale, vuoi altri stedi. Giochi di potere, c'è una poltrona vuota, c'è una poltrona vacante che fa gola tanto. Ma tutto questo io capisco, però, con la poltrona devi attaccare, ma in maniera diversa. Ma fai una distinzione, non andare a toccare anime che hanno oggi un ricordo straordinario, che è un sogno. Ma perché devi ferire questo sogno? Mi chiedo perché. Allora, Gabriele, Walter Nerone e poi Alessandro Alberti. Walter. Presidente, io voglio dire, adesso dico le cose che fino adesso abbiamo detto, come si diceva, ci siamo capiti fra dette e lavori. Allora, quella vicenda, che era impolverata, secondo me non è riemersa con un'inchiesta giornalistica, ma è la classica pietanza che viene servita, già condita, e che uno che è di mestiere fa il giornalista, valuta, vede, guarda e decide poi di pubblicare o di rendere nota. Io mi chiedo una cosa sola. Gabriele Gavina, schiettamente, premesso che con questa, rispolverando questa storiaccia di vent'anni fa, si tira dentro non solo Gabriele Gavina, ma si tira dentro anche la famiglia Matarrese, che nel calcio non è che c'è passata un po' così, no? Quindi, si fa un cocktail meraviglioso e alla fine io dico, ma secondo te, Presidente, se non c'era la candidatura alla FIGC, qualcuno avrebbe riscoperto quella vicenda? Assolutamente no. E allora, secondo me la cosa nasce ora qua, perché chi ha un bricciolo di buonsenso si chiede sempre la famosa domanda, no, cui protest. Qui c'è la domanda e la risposta in automatico, dal punto di vista giuridico, calcistico e anche penale, credo, sono fatti prescritti. Sì, possiamo anche ridiscutere se Orazzi e Curiazzi fu una lotta leale o qualcuno aveva un pugnale nascosto, ma non è che cambiamo la storia. Secondo me la storia del Castello di Sangro, bella è stata, bella è e bella resterà. Mi dispiace umanamente per te che ti hanno tirato per la giacchetta in questa vicenda, ma credo che lo scenario sia la vicenda FIGC. Io non lo so, non voglio, purtroppo sono ancora un inguaribile romantico, quindi la valido come un'operazione da audience, un'operazione da scoop, un'operazione di qualche ragazzetto che va in giro con le telecamere nascoste a carpire qualche atto di goliardia da parte di qualcuno di qua e di là e poi ci ricama perché poi alla fine alcuni freelance purtroppo hanno l'esigenza anche ed è giusto che guadagnino anche qualcosina. Io ho sentito, ho visto, hai centrato perfettamente il tema. Non c'è un problema di matura sportiva, non c'è un problema di matura penale, non c'è problema di altro genere. È stato detto in trasmissione, l'ho visto la mattina dopo, che si tratta di un fatto morale perché la morale non va in prescrizione. Io sono d'accordo, devo sottoscriverlo, però mi chiedo come mai, adesso io sono uno di quelli che non ha mai lanciato una pietra contro altre persone, però se tu vuoi parlare di morale, credo che lo scandalo più importante del calcio italiano sia stato da ciò, perché non mi dai una lezione di morale e quindi non fai apparire un programma di alta moralità con una persona che è stata, credo, la persona che abbia rappresentato uno degli scandali più importanti del calcio italiano. Bravo, bravo. Era l'altro punto che ti volevo dire. Allora, Alessandro Alberti. Ciao Gabriele. Ciao Alessandro. E intanto, ovviamente, ti sono solidale perché è già stato detto tutto. Io al San Nicolo ovviamente c'ero perché papà era il direttore sportivo del Bari. Io credo che se quella partita fosse stata giocata per 20 volte il Bari avrebbe vinto 3 a 0 20 volte di fila. Ma non solo contro il Castello di Sangro? Ma no, perché peraltro c'è un aspetto saliente ma non avrebbe vinto nessuno. Ma tra le altre cose il Bari nelle ultime 11 gare ne aveva vinte addirittura 9 e la partita precedente era stato uno spareggio drammatico che aveva giocato il Bari a Foggia e se ti ricordi bene l'arbitro era Collina fu l'unica partita nella storia del calcio italiano dove non si fece l'inversione di campo perché quando Franco il compianto Franco Mancini che allora giocava nel Bari dovete difendere i colori del Bari sotto la curva del Foggia praticamente dalla curva dei tifosi del Foggia allo Zaccheria pioveva di tutto. Io credo e ribadisco quello che hanno detto anche gli ospiti di questa sera e questo è un attacco vigliacco vergognoso nei tuoi confronti io ovviamente ti sono vicino ti sono solidale e quant'altro però credo che un'azione legale di quelle pesanti debba essere legittima perché non ci si può svegliare dopo 20 anni e infagare infamare in questo modo così vergognoso gente che lavora nel calcio come te da tanti anni Gabriele si prego ecco Gabriele ti volevo fare un'ultima domanda prima di lasciarti ringraziandoti per la tua cortesia ma è vero che sei stato invitato da Giletti in trasmissione per domenica prossima? assolutamente sì ma non io non sono da spettacolo io non ho bisogno di visibilità in teatri di questo tipo io gli elementi che ho a disposizione li ho già comunicati ci sono dei documenti ufficiali esistono buste paga che dimostrano correttamente tutto quello che io ho citato quindi gli altri possono fare illazioni come abbiamo detto prima sono a base di illazioni qualcuno ha subito due condanne penali sulla base di illazioni qualcuno beccherà la querela perché dimostra di dire delle falsità quindi le falsità quindi ti riferisci ai due giocatori o a uno perché adesso ne conosci uno solo o al conduttore della trasmissione no io chiaramente la querela non la faccio io ho dato mandato ad un avvocato a un professore penalista che ha tutto il materiale a disposizione sulla base di questo materiale saranno individuate delle responsabilità a me non compete io non amo la persecuzione detesto le cucilazioni mediatiche perché se io avrei apprezzato e l'ho comunicato a chi mi ha invitato la trasmissione mi sarei andato molto volentieri alla prima cioè se tu vuoi fare un contraddittore mi chiami prima non mi chiami dopo per alimentare io non voglio alimentare nulla quindi assistere a questa fucilazione su un territorio e credetemi la cosa che mi ha fatto più male è vedere la proiezione di la ricerca su una cartina geografica di una realtà come se fosse questa realtà sperduta io credo che a Stendisangro qualcuno dovrebbe avere forse anche il piacere di venirci a trovare con la massima serenità come hanno fatto oggi venendo questo freelance a girare per Castelisangro arrivando ieri sera dove girano liberamente non si gira armato nel nostro paese il nostro paese è una città libera è una città che offre quello che qualcuno cerca e soprattutto cerca l'accoglienza la serenità la qualità della vita e cerca delle strutture che in altri posti non esistono quindi tutte queste cose a farle apparire come questi luoghi sperduti non fanno bene di questo è chiaro che qualcuno consentitemi ne dovrà rispondere a me per quanto riguarda l'offesa che eventualmente non avendo fatto nomi ma io voglio dire l'ho già detto sono io quindi non ho problemi sono io e poi c'è gente che è stata offesa come i calciatori c'è gente che ha lavorato a Bari che è stata offesa perché giustamente stiamo parlando anche di gente che ormai non è più tra noi mi riferisco giustamente a Derrico mi riferisco a Vincenzo Matarrese mi riferisco a Luciano Rulsi cioè tutta gente che per questo mondo per questo territorio per queste collettività ha dato tutto quello che poteva dare quindi nessuno dico nessuno il nome dell'audience si può permettere di offendere la dignità dell'uomo la dignità dei cittadini abruzzesi della mia realtà non si può permettere nella maniera più assoluta di scalfire quello che è un sogno costruito con tanti sacrifici e con tante capacità professionali Gabriele è un caso secondo te una coincidenza che la 7 sia di Cairo no assolutamente io ho parlato con Urbano una persona equilibrata no non c'entra niente Urbano è stato un mio sostenitore qui ci sono probabilmente delle dinamiche diverse io non voglio ripeto qui non è in gioco se è quello è quell'altro io non faccio caccia alle streghe io so fare il mio mestiere credo di averlo dimostrato poi ci sono altri che fanno altri mestieri ci sono gli avvocati ci sono i giudici ci sono altre procedure da seguire quindi io non ho mai fatto l'attore in vita mia quindi non vado nelle trasmissioni a fare l'attore ad alimentare questo o quell'altro percorso ci sono dei tempi giusti delle sedi giusti ci sono opportunità per che qualcuno faccia chiarezza vediamo 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 a che punto si vuole arrivare Gabriele Luigi Luigi Mascia ciao una domanda alla quale non mi risponderai mai al di là degli avvocati dei giudici tutto quello che abbiamo detto ma è evidente che la teoria un po' del complotto è quella che ha preso più corpo ma ti sei fatto un'idea in quali ambienti da quali ambienti può essere nata magari questa cosa no Luigi non mi risponderai mai però l'idea tu ce l'avrai ti rispondo dicendo che non ho idea sicuramente ci saranno delle verifiche io sono convinto che qualcosa emergerà perché non può non emergere voi l'ho detto prima io ho dato ho posizionato una serie di elementi individuando i personaggi che diciamo oggi sono sulla scena insomma tutta la scena si posiziona riavvolgendo un film a 21 anni fa tutto si riavvolge su base anche su presupposti completamente falsi completamente falsi quindi è strano che diventi ragazzi ce ne sono oggi due ma potrebbe diventare uno solo che anzi oggi è uno perché l'altro è Mr. X e quindi mi sembra strano che tutti dicano al contrario dopo 21 anni non è che c'è un rapporto di dipendenza dalla vecchia proprietà sono ragazzi liberi che hanno figli hanno nipoti che vivono non so dove perché io non mi sento da un po' di tempo mi sembra davvero raccapricciante pensare che guarda caso uno solo uno solo ricorda di alcuni particolari ma non ricorda al risposto se ha preso il premio dice di no evidentemente la sua busta paga che io ho di 30 milioni di vecchia lire di premio evidentemente gli è sfuggito e questo mi sembra molto strano grazie a Gabriele Gravina grazie per essere intervenuto grazie a voi saluto tutti grazie un abbraccio a tutti allora Flavia innanzitutto diciamo subito che c'è prescrizione quindi non ci saranno conseguenze di questo tipo no sì sì assolutamente sia sotto il profilo sportivo penale c'è la prescrizione però il presidente Gravina ha detto una cosa interessante che sotto il profilo morale invece non non c'è prescrizione io vorrei offrire anche una lettura alternativa non per fare l'avvocato del diavolo però diciamo che sicuramente il momento tutti gridano un po' al complotto io non credo al complotto ci potrebbe essere anche una lettura alternativa cioè che a dispetto e a cospetto di un uomo che corre per la presidenza federale che ha fatto dell'etica della probità sportiva della lealtà il suo codice etico e quindi il suo messaggio elettorale questo possa aver svegliato anche gli animi di chi vedono un uomo di questo tipo correre per la presidenza federale d'altronde voglio dire gli scandali tanti scandali sono sono venuti fuori tutte quelle volte in cui alcuni uomini ad esempio dei politici importanti hanno poi assunto e rivestito dei ruoli più importanti quindi voglio dire io non ci vedo un complotto potrebbe essere così intanto tecnicamente non si tratta di illazioni ma si tratta comunque di testimonianze rese da persone informate sui fatti e quindi voglio dire sì un'intervista giornalistica ma una delle due addirittura come ha detto lui è stata carpita ecco allora proprio perché è stata carpita bisognerebbe capire come mai questa persona pur non sapendo di essere ripreso si è determinato a fare delle dichiarazioni false perché poi sostanzialmente comunque la linea del presidente è che appunto queste dichiarazioni siano prive di fondamento destituite di ogni fondamento dice anche ce n'è uno ma poi tutti gli altri non c'era motivo per chi non sapeva di essere ripreso non c'era motivo di fare quel tipo di dichiarazioni effettivamente non ne vedo se effettivamente è stata carpita con dolo allora non c'era un motivo per mentire così come sì è vero la dichiarazione è una tuttavia se ne potrebbero aggiungere altre di testimonianze e comunque sono fatti che hanno trovato già un punto di appiglio nell'immediatezza dei fatti e che oggi vengono sicuramente alla ribalta pubblica in un momento delicato ma è un momento delicato proprio perché credo ci sia appunto ci sia stata questa corsa alla poltrona capo dello sport italiano e quindi magari del calcio italiano magari ecco qualcuno si è sentito di voler di voler rilasciare delle dichiarazioni poi assolutamente c'è tutta la mia solidarietà anche perché chi più di me può sapere come ci si sente ad essere condannati mediaticamente prima che un'autorità giurisdizionale abbia fatto il suo corso abbia effettivamente accertato in sede penale la verità del fatto quindi assolutamente l'ampia solidarietà al presidente Gravina tuttavia ci sono a mio avviso delle letture alternative che dovrebbero essere setacciate allora Minguzzi e poi la pubblicità sì no se vogliamo dare una lettura diversa ci si può dare anche con un attacco al calcio cioè magari Castel di Sangro è venuto fuori di conseguenza magari però un attacco veramente al calcio che chiaramente a livello di audience televisiva diventa forte la settimana prima in quello stesso riquadro della trasmissione era venuta fuori la storia del ragazzo il procuratore Truffaldino tu mi dai soldi io ti faccio giocare a Monopoli piuttosto che a Lisbona piuttosto che a Budapest cioè lì c'è un filone eh infatti diciamocelo chiaramente Giletti dubito che abbia mai fatto giornalismo di inchiesta sportivo è bravissimo su altri campi ma non me lo ricordo impegnatissimo nel calcio in quel reparto in quel settore tra l'altro io diciamo dal punto di vista l'opportunità o qualche riserva usa come come diciamo come 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 controcanto Luciano Moggi che adesso può essere visto come il massimo del nero il massimo del bianco nel calcio io personalmente ho subito cinque ordini di interrogatorio di cui poi non fu verbalizzata una parola dalla procura federale che voleva sapere che ne sapevo io a che cosa aveva fatto Moggi gli anni famosi quando facevo le inchieste io personalmente ne ho sentito parlare che peggio non si può ma non mi dite che l'ho visto non vi posso dire che l'ho visto rubare un bicchiere al ristorante quando lo saprò ve lo dirò quindi quella cosa quello si parietto a me mi inquieta un po' perché come dire sembra fatto per provocare reazioni forti adesso si va da una cosa di cui tutti parlano no gli intrallazzi da procuratori più o meno corretti con giocatori di diciamo così di dubbia di dubbia capacità andiamo a finire una storia di vent'anni fa quando nella settimana o nelle settimane che subito seguono la vicenda Castel di Sangre sembra quasi che su quel separietto televisivo qualcuno qualcuno voglia innescare qualcosa e secondo me la presenza di Lucianone Moggi al netto di io non so neanche che cosa faceva all'epoca quello due anni che io scalcio non l'ho seguito proprio facevo altro non c'entra ovviamente niente con la vicenda perché che io sappia non ha mai lavorato per Castel di Sangre e Bari però ecco conferisce un qualcosa un'immagine un po' particolare a queste vicende il semplice fatto che venga usato come interlocutore e voglio dire quando c'hai un Moggi in là c'hai anche automaticamente una memoria storica su fatti e misfatti del calcio chiaramente qualche siluro anche Moggi ne ha ricevuti tanti ne ha ricevuti magari ma non credo abbia motivo di mandarne adesso però voglio dire è un si è creato un cocktail francamente ma hanno capito che l'argomento tira e chiaramente lo cavalca con la presidenza con la presidenza federale in ballo poi hai ritirato dentro pure io adesso prima per esempio non ci stavo pensando cioè in quella vicenda lì se ci stanno di mezzo le società hai tirato in ballo tre personaggi rispetto a cui memoria ci dobbiamo soltanto che togliere il cappello è che non ci stanno più ma forse è proprio questo cioè è proprio questa memoria l'unico sopravvissuto finisce sulla graticola e anche la presenza di uno come Luciano Moggi che è stato radiato dall'ordinamento sportivo credo che significhi proprio questo cioè si sono volute scambiare le poltrone proprio perché si vuole mettere sotto i riflettori chi ha pagato e forse si vuole far luce anche su chi non ha pagato non lo so è un'idea però non possiamo sottrarci è una tesi che potrebbe essere pure la mia non possiamo sottrarci è una tesi che potrebbe essere pure la mia ma perciò dico quel siparietto per me diventa inquietante nel senso del non capisco dove vanno a parare non inquietante per per chi sa quali nefandezze quella è una lettura ma perché appunto sono possibili queste diverse letture che va che prescindono dai fatti dalla realtà ecco allora fermiamoci qua perché abbiamo la pubblicità poi torneremo in diretta perché al 388 1 2 4 4 6 8 8 tramite i messaggi whatsapp sono arrivati veramente tantissimi messaggi li vedremo tra pochissimo a fra poco 22 e 35 minuti ancora in diretta abbiamo avuto la telefonata esclusiva con Gabriele Gravina che ci ha detto quello che pensa di questa situazione ne abbiamo parlato tantissimo abbiamo parlato di Sebastiani e la sua intervista rilasciata proprio a rete 8 e poi anche in conferenza stampa e vediamo ora che cosa dicono che cosa pensano i tifosi o gli sportivi da casa allora tirate in porta rivolto ai giocatori grazie questa è una nota di carattere tecnico buonasera a voi due osservazioni sulla partita di Chiavari otto falli laterali passati direttamente agli avversari cinque scippi del pallone da un avversario posizionato alle spalle di un biancazzurro che invece di giocare si guardava intorno secondo voi è disattenzione mancanza di concentrazione ho poca voglia di correre per me ci vorrebbe ci vorrebbe i calci nel posteriore Remo Piersante il pescare ottavo per presenza allo stadio grazie ai 4.000 abbonati portati da Zeman Presidente l'anno prossimo vedremo senza Zeman e qui è un'allusione a quelle cose di cui abbiamo parlato prima solo Sebastiani ora parla di playoff non c'è traccia di una sua intervista che dica queste cose comunque i tifosi non sono stupidi e se quest'anno puntiamo ai playoff l'anno prossimo deve essere promozione diretta non credete questa società è criticabile su molti aspetti perché non crea la giusta armonia cercando di voler prevalere su Zeman facendogli la guerra non dichiarata è chiaro che con Zeman troverà sempre risposte allo stesso livello e penso giustamente Presidente anche se anni fa se non vendeva Verratti faceva qualcosa per trattenere insigne ed immobile potevamo rimanere in A visto che prende un allenatore e poi lo critica Zeman sta facendo miracoli basti pensare che gli ha dato ad esempio due giocatori che poi dopo tre mesi smettono di giocare per fare i dirigenti per ragioni di opportunità non rivelo il nome del giocatore che non fa più parte di una squadra e al quale mi lega una solida amicizia ebbene questa persona mi conferma che attualmente come prima la squadra non segue il suo allenatore ed è totalmente autogestita ecco vorrei commentare questo ecco chi è che facciamo un'altra puntata su questo Vincenzo no no ma io non so su questo messaggio ecco secondo te la squadra è autogestita adesso al di là del giocatore che l'ha detto dell'amico eccetera non credo c'è un allenatore c'è uno staff tecnico c'è una società dietro io non credo che anche anche le persone che stanno gestendo tra virgolette controllando il lavoro dell'allenatore dei giocatori comunque avrebbero capito questa situazione e non avrebbero comunque sarebbero intervenuti io non credo che tutti quanti facciano finta di niente adesso cioè uno va vanno di modi i giocatori che parlano perché poi si riferisce a un ex giocatore del Pescara mi pare il messaggio evidentemente se ne ha dato felice oddio è che però questo Pescara anche a un certo punto dopo quelle partite in cui siamo stati recuperati poi tu eri molto contento di quel Pescara iniziare a essere 0-0-1-0 un Pescara difensivista non hai attaccante non l'epito che non aveva niente di Zeman e tuttora non ha niente di Zeman in effetti stasera siamo alla teoria dei complotti e della dietrologia però oggettivamente il risultato è che questa squadra del proprio allenatore non ha proprio tracce non ci sono tracce se poi c'è qualcuno che le gestisce sarebbe carino sapere chi è il leader di questa squadra perché Vincenzo ha giocato l'autogestione ci vogliono i leader Campagnale non può essere perché prima non c'era ma potrebbe essere Sebastiani come allenatore come si chiama ma dice la squadra l'autogestito Benali se n'è andato Pettinari non mi pare che sia un che può dire ragazzi si gioca come dico io non ho stato a sentire sto vecchietto cioè chi lo dovrebbe fare l'autogestito chi è il leader della gestione chi ha questa personale no ma non credo allora vediamo un altro messaggio vediamo altri messaggi da casa forse meglio che non venga recepito il verbo dell'aleatore è più probabile però altro discorso buonasera non capisco come mai non gioca mai Macin non è che gli è scaduta l'assicurazione questo è molto divertente allora buonasera a voi tutti una volta il grande inimitabile Enrico Alberti mi disse che costruire una squadra è come avere un puzzle con undici tessere vanno incastrate ognuno al suo posto se hai due tessere uguali non puoi completare la tavola oppure devi adattare una delle due tessere nello spazio libero a luglio avevano due estremi alti a sinistra e ne abbiamo aggiunto un altro ed è rimasto vuoto a destra dove è stato adattato uno dei tre capito il problema Remo Piersante a questo posso far rispondere così o valutare Enrico cioè Enrico scusa Alessandro perché Enrico Alberti aveva effettivamente detto questo ed è una verità nel Pescara secondo te è così? Io ti ho fatto una premessa fondamentale nel primo intervento di questa trasmissione e ti ho detto quando si riparte dopo una retrocessione con tutta una situazione di scontenti di ingaggi e quant'altro c'è sempre un'enorme difficoltà a liberare le famose tessere che evidentemente mio padre di cui il mio padre si riferì quindi ci sono delle difficoltà in aggiunta a questo c'è un rapporto malato tra l'allenatore il presidente e quant'altro e viene fuori il quadro odierno del Pescara secondo me ci vuole un po' di tempo per riuscire a far sì che diciamo si faccia anche una pulizia ma in senso voglio dire buono del termine non perché i giocatori che giocano attualmente nel Pescara di quest'anno debbano essere dismessi perché sono scarsi o in ague ci vuole un po' di tempo è evidente che io ricordo Benali veniva utilizzato come ala sinistra in realtà è una mezzala ci sono stati tanti equivoci ok già dall'inizio della stagione per me ci sono tante difficoltà proprio a fare mercato perché c'è un dato oggettivo al di là delle tessere o delle non tessere in questo momento c'è proprio una difficoltà enorme nell'operare nel mondo del caccio c'è una grande crisi oggi se non ricordo male e chiedo a Flavia che è un illustre avvocato mi sembra che anche l'Arezzo sia stato decretato fallito quest'anno abbiamo il Modena Vicenza e l'Arezzo che hanno iniziato il campionato l'Arezzo non è ancora in questo settore però siamo andando allora voglio dire ci sono degli enormi problemi quindi in un quadro di difficoltà io credo che anche il Pescara che non ha il denaro per fare la guerra agli arabi abbia delle difficoltà e poi ovviamente c'è tutto il contorno dettato dal presidente allenatore direttore sportivo e quant'altro che fanno nel quadro odierno un altro paio di messaggi poi andremo in pubblicità vediamo se la regia ce li manda in onda ecco qui credo che questa squadra abbia subito un'involuzione dal punto di vista dei valori in campo visto che sono partiti giocatori come Benalime Muscei Zampano Gans eccetera dal punto di vista del gioco dove tra l'altro non vedo più percussioni sulle fasce vista l'assenza mai definitiva di Zampano e quella momentanea di Crescenzi vorreste sapere che ne pensate in studio un saluto agli ospiti da Antonella faccio rispondere a Luigi però velocemente Luigi perché abbiamo poco tempo siamo alle solite quei giocatori erano giocatori di livello tecnico molto alto magari Gans Gans in campo non l'abbiamo mai visto però non l'abbiamo mai visto in effetti potrei dire che Fiamozzi è un giocatore potrebbe collocarsi in quel contesto non soltanto dire che Crescenzi è comunque un ottimo giocatore per cui sono tutte scelte che sembrerebbero essere in capo all'allenatore che però sono discusse dal Presidente il materiale umano l'ho messo a disposizione poi le scelte la formazione non la faccio io dice Sebastiani altri messaggi buonasera a tutto campo i conti li faremo alla fine fiducia a questi ragazzi aspettando primavera avanti 1936 speriamo naturalmente bene buonasera mister Proof Valenza deve andare via ne abbiamo abbastanza di lui se fossi in Zeeman porterei il Pescara ai playoff e poi me ne andrei io pensiamo a non disputare i play out altro che play off poi per l'anno prossimo si vedrà vorrei sapere se Falco in settimana si è allenato regolarmente se secondo voi sabato potrebbe partire titolare su Capone il mister ha fatto bene a metterli in panchina perché se Capone vuole affermarsi a certi livelli aiutare il Pescara deve mettere più grinta e impegno grazie potrebbe giocare Falco potrebbe giocare andiamo avanti ancora qualche altro messaggio che bello seguire una trasmissione dove chi parla di calcio lo capisce davvero saluto agli ospiti sempre molto competenti un saluto particolare a Luigi Albone Mascia e Walter Nerone grazie hai mandato tu questo per i complimenti no sei tu sempre col telefono e per i complimenti agli opinionisti ancora a questo punto è chiaro che il difetto principale della squadra è l'attacco bisogna sperare su Bunino se non segna più Pettinari Carlo da Pescara incredibile il presidente prima vende i giocatori per fare plusvalenza e dopo dice male al direttore sportivo e allenatore che brutta cosa fermiamoci qui adesso con i messaggi sono tantissimi veramente tanti io ringrazio voi che ci seguite sempre da casa con tanto affetto pubblicità poi torneremo di nuovo per andare a Cremona e vedere come sta vivendo la vigilia la cremonese bene siamo di nuovo in diretta per questo finale di trasmissione allora iniziamo a parlare anche della partita con la cremonese di sabato è la prima delle due partite in casa dei biancazzurri che dovrebbero cercarne di approfittare ma vediamo cosa ne pensa la cremonese e l'ambiente di Cremona abbiamo in collegamento da Cremona Mauro Mattezzoni buonasera Mauro buonasera Pierluigi buonasera a tutti gli ospiti in studio buonasera a tutti gli amici di A Tutto Campo dagli studi di Cremona 1 un saluto da Mauro Mafezzoni una cremonese che arriva alla sfida contro il Pescara in cerca di punti perché nelle ultime quattro partite ha raccolto solo due punti e ha prodotto gioco ha prodotto tante occasioni ma non è mai riuscita ad essere concreta la cremonese a caccia di concretezza e con qualche problema a livello di formazione in settimana per i Grigiorossi si è fermato il capitano l'attaccante Brighenti che dovrà rimanere fermo per due settimane per uno stiramento alla coscia sinistra per la partita contro il Pescara però c'è la speranza da parte di Tesserra di recuperare e poterlo far partire dall'inizio l'attaccante Paoligno che ha saltato le ultime tre partite un altro dubbio di formazione è legato ad Almici Almici che per un'infiammazione al ginocchio ha saltato l'ultima sfida persa contro il Bari il sostituto naturale Cinaglia è arrivato nel mercato di gennaio ma Tesserra ha fiducia spera di poterlo recuperare in posizione di terzino destro per una cremonese che a Pescara si dovrebbe presentare con questa probabile formazione 4-3-1-2 il sistema di gioco di mister Tesserra Wicani tra i pali i terzini Almici oppure Cinaglia sulla destra e Renzetti a sinistra i due centrali Canini e Clayton a centrocampo Arini Pesce e Croce un ballottaggio per quanto riguarda il trequartista Castrovilli è partito titolare nelle ultime partite potrebbe essere confermato l'alternativa è il più esperto piccolo coppia di attaccanti Paoligno Scappini se Paoligno non dovesse farcela partirebbe dal primo minuto il giovane 19enne Scamacca arrivato in prestito a gennaio dal Sassuolo che in settimana ha siglato un gol su calcio di punizione con la maglia azzurra della nazionale under 19 nell'amichevole persa dall'Italia 2 a 1 contro la Francia ci saranno circa un centinaio di sostenitori cremonesi che arriveranno con un paio di pullman più qualche pulmino si stanno organizzando in questi giorni arriveranno a Pescara quindi un centinaio di tifosi grigiorossi e Tesserri invece parlerà per la consueta conferenza stampa prepartita domani mattina alle 11 poi la squadra partirà per il ritiro e ovviamente sabato ci sarà la gara con il Pescara da Mauro Maffezoni dagli studi di Cremona 1 è tutto e ricedo la linea a voi di nuovo un saluto a tutti gli amici a tutti i telespettatori di A Tutto Campo grazie per questo collegamento sei stato brevissimo hai detto un po' tutto sulla formazione allora Flavia si torna a giocare insomma abbiamo parlato anche di altre questioni diverse una partita molto importante questa con la cremonesi speriamo che non ci siano altre dichiarazioni pre post partita del tenore di quelle che abbiamo già sentito perché credo che ci voglia anche un po' più di soliti insomma un profilo più basso no anche un po' più di coesione tra l'allenatore e il presidente credo che dovrebbe essere così altrimenti non non si può funzionare a mio avviso in questo modo non è un confronto sano ecco allora mi dicono che ci sono talmente tanti messaggi che sicuramente non potremmo accontentare tutti ma qualche altro vediamolo perché ovviamente sono molti che sono intervenuti anzi grazie ancora intanto ringrazio Tatiana Conetti che segue dalla dalla redazione allora Luigi parole sante Francesco grazie adesso si critica Zeman perché giustamente vince 1 a 0 il prossimo anno vi toccherà sempre non vi toccherà sempre con un altro allenatore e forse la C dietro è l'angolo speriamo di no veramente è Zeman che si lamenta quando vince 1 a 0 noi siamo felicissimi come fate a dire che Zeman e il presidente non si sopportano quando in più occasioni Sebastiani ha affermato di stimare molto il nostro allenatore è solo il gioco delle parti non credo bravo Pincione ha preso casa a Pescara è più gradito lui che Mr. Prus Valenza meglio la Serie C che queste ipocrisie ce lo vogliamo mettere in testa che questa squadra non ha molta qualità giocatori né carne né pesce soprattutto gente che non ha fame dove sono i lapadule i gaudenzi eccetera gente che dava l'anima in campo a proposito di motivazioni la Roma che perde lo scudetto davanti a 70.000 persone contro un Lecce già salvo come la mettiamo? per cortesia dite al signor Nerone che quando si è a casa di altri bisogna sedersi in maniera composta e non stare stravaccati come lo fa lui ovviamente si scherza mi chiedo come è possibile che nella società del Pescara debba sempre regnare confusione vorrei sapere dagli ospiti di questa sera secondo voi ci potrà mai essere un programma degno di questo nome? Siamo stanchi di bugie e sottefugi quando ne dobbiamo vedere ancora? Ecco io vorrei Vincenzo per programma si parla di progetto questo lo devi chiedere ai tuoi opinioni che hanno seguito sempre va bene vogliamo dire una cosa banale sul progetto posso parlare della Cremonese però velocemente alla luce dei fatti il progetto Pescara a Roma tre anni fa due anni fa ci è arrivato Mr. Pallotta adesso si fa il progetto parla con i romanisti il progetto era del nuovo stadio che era quello il progetto qua le società che hanno un progetto di solito è un progetto edilizio io gli unici progetti che ho visto concretizzarsi in alcune società sono quelli edilizie poi quello sportivo che ci dovrebbe andare dietro l'unico due o tre il Sassuolo l'Udinese la Juventus il resto lo finone guarda caso tutte realtà dove c'è un poi tutto tutto ha un perché ovviamente però quando la gente parla di progetti Sebastiano ha 50.000 difetti forse con l'intervista di ieri è arrivato a 50.000 però però che cosa gli vuoi chiedere a Sebastiano di diventare improvvisamente uno sceicco Sebastiano se mi perdona l'espressione che non vuole essere quella che diciamo vuole essere solo ironica vive di espedienti come altre decine di presidenti in Serie A perché a questo livello se non hai dietro tre pozzi di petrolio o un fondo cinese vivi di espedienti se poi i tifosi pescaresi queste cose possono o una fabbrica di auto o una fabbrica o più di una più di uno e bisogna essere anche molto bravi nel gestire perché non tutti sanno vivere di espedienti questo è indubbio però vivere di espedienti suona male no ma espedienti per l'amor di Dio cioè vivere di espedienti di espedienti come vivevano con Etani piuttosto che Rozzi con Lascoli erano espedienti loro ogni anno si inventavano una compra vendita magari non ne pigliavano 36 a luglio e 43 a gennaio ne pigliavano un po' di meno ma facevano così pure loro pure loro facevano così e hanno vissuto alla grande quelle società poi c'è l'anno che ti va male non parliamo di espedienti ma di intuizioni finanziarie però a me espedienti mi piace di più allora abbiamo pochissimi minuti direi a questo punto di chiedere un pronostico agli ospiti sulla partita con la Cremonese e intanto la Regione può mandare gli altri messaggi quelli che riesce a mandare nel frattempo allora Alessandro Pescara Cremonese partita da vincere a tutti i costi da vincere tu devi ricordati che si gioca anche dopo altri tre giorni quindi io direi non perdere contro la Cremonese quindi vedo un pari domenica Vincenzo giocare per vincere senza dubbio perché intanto quello lo devi fare sempre giocano contro una squadra esperta che ha fatto una rosa tra virgolette importante manca Brighenti che secondo me è un bel pezzo per vincere devono giocare il Pescara deve giocare con una velocità superiore con un po' più di coraggio delle partite che ha fatto ultimamente cioè un po' più di ritmo un po' più di grinta come diceva prima il telespettatore ci vuole più convinzione in quello che si fa è un pochino di velocità e la Cremonese secondo me potrebbe soffrire queste qualità Davia l'esperto di diritto passa al tifoso sportivo Pescara-Cremonese vince il Pescara da tifosa devo rispondere così scusa Luigi sono d'accordo con la disamina che è stata fatta la Cremonese è una squadra veramente di categoria che secondo me soffrirà poi in primavera con i primi caldi perché qualche giocatore è un po' più avanti però adesso è una squadra in crisi di risultati ma non di gioco è una partita difficile la ragiona Alessandro poi c'è la partita col Carpi due in poi in casa secondo me un pareggio può andare anche bene in questo momento sarà il risultato dal mio punto di vista più probabile poi tutti speriamo che vinca il Pescara allora Walter o altre al pronostico su Pescara-Cremonese chiede una cosa tu che sei abituato hai fatto tante volte le pagelle ai giocatori se dovessi mettere un voto all'intervento come a quello che ha detto oggi Gravina cosa che voto mettereste il giocatore magari vedi che fa un liscio gli metti 4 vedi che fa un gol in rovesciato gli metti 8 no Gravina dal punto di vista umano per quello che conosciamo della vicenda calcistica devi dire soltanto che ha subito un attacco piuttosto feroce quanto così incomprensibile stando alle cose note dall'altro canto uno che vive nel calcio è di calcio da 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 ormai io me lo ricordo Gravina proprio i primi i primi passi nel calcio che non era ancora quello che contava perché Castel di Segro poi ce l'ha portato lui e un paio di amici suoi no quindi che voto dargli per il fatto di stare ancora lì gli darei anche 7 per il retroscena di queste vicende qua voglio dire che non mi viene in mente un presidente che non abbia avuto almeno una volta qualche chiacchiericcio le partite di fine campionato da che mondo è mondo vengono chiacchierate tutte poi succede che qualcuna c'era motivo di chiacchierarla ritirarle fuori vent'anni dopo io con qualche partita ci ho provato ma ci ho provato tre settimane dopo bene vent'anni dopo non lo so perché a questo punto siamo proprio in chiusura allora i ringraziamenti un grazie agli ospiti qui presenti in studio grazie a Diego Martelli che ci ha supportato dalle camere a Naomi Polidoro con il suo coordinamento alla regia di Danilo Cinquino e alla redazione a Tatiana Conetti e naturalmente il grazie più grande va a voi tutti che ci avete seguito da casa e continuate a seguirci grazie e appuntamento a giovedì prossimo alla stessa ora buonanotte sono seduto sopra una panchina qui fermo ad aspettare e c'è un pallone sta viaggiando sul prato e quando arriva mi farà sudare ma dimmi quando arriverai sono così teso questa palla non arriva mai chissà che faccia che farai così felice non t'ho vista mai a tutto campo arriverà è un talk show del tuo pescara qui si parlerà chissà che faccia che farai quando la vedi alla televisione rimarre senza parola clicca se seguici a tutti Grazie a tutti.